salve a tutti amici artisti e benvenuti in questa seconda puntata di brulala non perdiamoci chiacchiere partiamo con il video vediamo vedi di perdere di nuovo come la figuraccia dell'altra puntata ok sto filo aspetta il giro così e smette di rompere le palle ecco qua vedi si è staccato allora io sono 18 la cpu va bene fa niente alla maria sono quello giallo vedi in pratica qualcosa che non mi torna chi cazzo sono questi qua la cpu te l'ho detto computer dice dobbiamo battere 22 dobbiamo uccidere tra vicenda però iniziamo se quelli perché non vuole palle perché dimenticati e ma vedo che ci rubano le palle è certo perché vogliono ucciderci sono bastardi ma rimpegnato ma sì perché sto cercando di battere questo strunzo punto non ti ho picchiato il fratello mazzangherini no no ecco la fattaculo non anche ho ucciso si è solo io posso picchiare il mio pelatune non ho stato picchiato non cadere ho fatto doppio k o non ho fatto picchiare il mio pelatune pelatune io però posso picchiarti non ci pare dopo la toglia la toglia la cp la toglia la cp la cp è stata è bravo cercando e sta cercando di imparare è imparato meglio di super smash che almeno del danno lo fai però ricorda un po migliore specialmente si rifrate lo quattro stanno a bucchia la corsa non a tema di fare il cazzo e cosi metti di dilati quando stai per morire quando quando vedi che la smart quando è che ci diamo alle palle a questi due ma che finisce la partita mannaccio belvedere il tempo che gli ammazza un attimo spostati ok uno è morto fammi fare un attimo fammelo stuprare che mi manca se mi manca che gli manca una vita puttanazza oh e però fammelo uccidere ma che oh sta cercando di uccidere no vaffanculo 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 la kill me la prenderò io ecco sci tu ma ma solo tutti i geni mi è più amico e la cp ma no a e guadagite non sarà data non c'è la mia ragazza è morto ma non guarda come io ho come fuori ciò a droghe abbiamo nato la cp in normale vago buo io rimetto questo personaggio perché mi sto trovando molto bene ma non posso metterlo uguale sì ok sì volevo dire un po così non fa niente ok così dai mi esce il mio dai che mi esce il mio no riuscite tu small king no pus pass ecco sto per fare un errore della madonna siamo senza armi per ora per te è arrivata una spada ecco perché è un cazzo ma proprio un cazzo un dildo pituana sei una lesbica in realtà siamo gemelli gemelle sì ma posso farti del danno non devo spaccare in due quest'oggi finati a prendere come una mela quest'oggi ti devo smazzare i nini i nini camperone non è vero anzi è un camperone perchè ti stai buttando ma chi è rotta la militia non è vero antonella ah ma non si può una così la la licenzia re ma si può essere più stronti ecco ma fanculo antonella fatti viaggio in paradiso per non tornare più no comunque no allora abbiamo registrato la prima puntata ieri sera mi aveva detto che doveva morire stanotte non sono morto quindi se non morivo se non muoio stanotte non posso morire mai muo stronza bello però ti devo chiamare per forza stronza perchè non sei un nuovo nooo nooo manna c'è la gara con un mio wish però ahahah 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 ho ancora tre vite io ho meno tre ne hai una meno tre però lo sai usare sto personaggio però lo sai usare sto personaggio non c'è mai non c'è mai ecco oh pituana puttana pituana e schiatta nooo non mangiava becca quando su gasutte no sei no cielo no ma lasciamo stare ahahah ahahah vabbè cambiamo un po' dai questo all'inizio mi sembra mi è stato simpatico però oggi avreste veramente è un fatto di pratica il personaggio non è buono no guarda che personaggio ah beh che perde comunque a prescindere c'è un telefono si e se non si è sentito l'abbiamo fatto anche vedere notare perché hai messo di nuovo lo stesso no io ho cambiato ho messo questo stesso ha detto questo guarda è lo stesso di prima ah no beh l'importanza no questa no io ho detto allora del personaggio che pare per domenica merdosa domenica ecco ecco porca miseria sei una puttana no 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 qua comunque mi hai buttato a me e giù ma qua mi hai buttato a me giù e sei caduto tu su caro di bella così cioè come si va vado così e poi risalvo e come si va vado così e non riesco a salire mi sto impegnando troppo ecco abbiamo trovato il problema quando mariano si impegna non riesce a fare niente di buono quindi a scuola ci andavi così per andarci e andavi bene cazzo ecco sono vivo sono vivo vai sono vivo pausa strategica vieni a morire vieni ok ha parlato e ricordi regia ricordati le parole devi morire eh ma porca se non ci confecchiamo eh ma io non devo farlo beccare sennò mi smazzi di nuovo ah mi hai tenizzato ah mi hai tenizzato no 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 ti sto prendendo quello per il culo puttana io non si vieni dici non siamo tontosi io non si vieni ecco no sta freccia in mezzo ma non è una freccia in mezzo ma non è una freccia in mezzo ma come non ho fatto no 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 però non potete ammazzare così ah perchè devo anche decidere come morire devi morire più dignitosamente eh certo in un modo più epico o in un modo meno epico ah ma bravo da fa muc su telefono mc mc j c c vieni vieni no mo devi morire non sono morto puttana no cazzo no olè no non vuoi trovare grande si roland ma buono questo è quello merdoso ho arrotto la minchia sto telefono ma serie già si distingue per favore cambia mappa ecco qua ah finalmente il mio small fun wild thing thing ok 3 2 1 bro c'è che poi diciamo che non è che è merdoso però dipende che c'è io non lo so fare questo personaggio e ti batto bustola di bus boom mi usare le mani va oh mamma mia che scazzottata ciao sparì, sparì, sparì no, non ho mai stato prendermi ma no, ma no ma no mi stavo, mi ero un attimo contentato perché non stavo parlando no, non ho mai stato ciao, senza armi, non le devi usare sei un abbo di me fai il culo le armi sono vivo sono vivo wow, che l'arma è bellissima ciao vuoi morire? si allora, ora metto quello che non so proprio usare questo perché non so usare le pistole vai io metto, questo l'ho mai usato si forse l'ho usato di tutti questa si questa non l'ho usata proviamo questa non l'ho usata non mi ricordo ok, bene così ma forse una volta, boom il mio è il tuo 3 2 1 BRO però forse il martelluzzo lo so usare però forse il martelluzzo lo so usare no, ce l'ho sottovalutato vediamo quando vado un po' lontane avrò i cadi per forza perché non puoi recuperare la G non puoi recuperare ecco ho recuperato guarda, guarda come vedi faccio, però non salta no, perché tu sbagli mi sarebbe questo e faccio, cazzo non salta ho questo qua, guarda olè olè vabbè dai spero che questo video vi sia lasciuto che bellissima volta hai perso vabbè lasciate like il video chi perde paga sì sì, vabbè ok, giuro io ok lasciate like, commentate, condividete al prossimo video al prossimo video ciao 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 ciao